Salve a tutti ragazzi e benvenuti sempre su Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Road to Hero numero 6 siamo già arrivati al 6 non sono più a 2100 perché semplicemente ieri i server hanno fatto molto schifo e ho perso, ho perso molte volte ok allora questo sarà un match un po' speciale perché andrò a giocare un team consigliato da un iscrite prima di tutto, dove cazzo sta? Ah Shisui, eccolo qua Shisui con Itachi, direi di usare questo Itachi e Nagato Nagato, si era Nagato, va bene, proviamolo Danza dell'Auro Tecni Tocca, Danza dell'Auro ok battaglia per salire di grado, speriamo perché è tutto lì il problema, speriamo oddio usa Minato quello normale allora se non mi sbaglio, no ma fallo uscire a Tensei ok perfetto guardiamo l'acqua Gatton, bastardo nooo bella, resa wow, ha sprecato anche la bella perché wow, ho negato no, mi ha preso cazzo, 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 sto rischiando ok bella però non mi sta piacendo grazie per il consiglio prima volta che ho usato Shisui mi sembra ca grazie per lo Ok? Bella! SHIRA TENSEI! No! Sono un idiota! Potevo... Potevo fargli ancora un po' più di danno Ok, passiamo a SHI SUI Ormai ho capito come fa con battle No, ho la presa! Devo fargli sprecare tutte con il su Eh, spreco non viste! Cazzo! Pula! Pula! No! Sto rischiando! TRASFORMIAMOCI! Cristo! No! Cazzo! Un HP! Un HP! No! Oddio, di nuovo minato Che palla! Ok, proviamo il cambio con Pain Nagato ci sta però Non ha il cannone E volevo quello Ah, peccato! No! No! Ok! Più concentrazione possibile Oh! 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 Attenzione! No! Che palle! ha quittato ed eccolo un altro ho fatto un'altra sostituzione ho tolto pain e nagato completamente ok, attenzione ok ok nope nooo quel shiro sensei nooo mi ha preso bella si ci sta di più questo invece di pain non nagato però ci sta anche il nagato madonna sto microfono qui non 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 Grazie a tutti Ok No non ha parato Cazzo mi ha preso con la sensuale Cazzo mi ha preso con la sensuale Bella Wow Che potenza No Ha tre di vita Ha tre di vita Rimango con Raikage Ha ha Bella Prima vittoria del giorno anche Perché è tutto il giorno che lagga Quintano di tutto Oh Bella combo Grazie per il consiglio La userò ancora Vediamo quanti punti abbiamo vinto Madonna sta roba Non ha un microfono sto qua Vabbè 37 pochissimi Vabbè Ha cambiato Naruto No Me lo merto No Mi ha preso con l'uscita Tensei No Non mi ha usato la sostituzione Aia Fa male Fa molto male Bella Ci siamo appena vendicati No ma non mi missa Non mi ha missato E' come se non lo vuole usare Non lo so Va bene Fa male ancora Due volte di fila Meno merito forse Ma noi ci trasformiamo Bola un po' Ok Andiamo indietro E giochiamo Continuando o l'ha preso No Cazzo L'ho preso in culo praticamente Saltarmi indietro Ok Non ne più sostituzioni Eh ora non ce le ho io Oh ma da dietro Cioè sapevo che Naruto ha P Però cazzo colpire da dietro Eh no No non l'ho preso Wow Wow Ok Vincitore Ce l'abbiamo fatta Due di fila Sì Vabbè invece di salire Siamo scesi di grado Una cosa che mi piace molto Vabbè direi che per questo episodio è tutto Come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un like Commentate E iscrivetevi E al prossimo video Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti 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 Ciao a tutti